Di fronte anche ad esempio al caso Rubi, rispetto alle intercettazioni che abbiamo sentito e rispetto alle cose che lei ha detto, lei è sempre stato onesto nei confronti degli italiani a raccontare quanto era accaduto intorno ovviamente a quel processo? Sempre, ho giurato sui miei figli e sui miei nipoti, che sono le cose al mondo che amo di più, che in mia presenza, come è stato testimoniato da circa 70, mi sembra, testimoni nel corso delle indagini, non ho mai visto, e negli altri non hanno visto, un atto che fosse un atto che si può definire, tra virgolette, sessuale. Quindi ci sarà stata allegria, ci sono state le cose che si possono vedere in tutti gli spettacoli di televisione, dove si balla, eccetera, o in qualunque discoteca. Quella del processo Rubi è stata una mostruosa operazione di diffamazione montata in piedi, dalla Procura e dal Tribunale di Milano nei miei confronti. Una mostruosa operazione di diffamazione, perché le due accuse che mi sono state fatte non giustificavano assolutamente le indagini, le 150.000 intercettazioni su chi ha avuto la sfortuna di accettare un mio invito a cena. E ero anche Presidente del Consiglio, tutti siamo uguali davanti alla legge, ma in questo caso si è davvero andato oltre ogni libile possibile. Con Rubi, una parola sola, mi hanno accusato di induzione alla prostituzione. Mi sono comportato esattamente nel modo diverso per sottrarla alla necessità di prostituirsi. Questa ragazza ci aveva fatto pena, a me e a tutti, e addirittura di fronte alla possibilità che lei ci aveva portato di diventare socia in un centro estetico a Milano, in Via della Spiga, tenuto da una sua amica, io l'avevo mandata dal mio amministratore che gli aveva dato un prestito, diceva lei, io non ritenevo che avrebbe restituito poi nulla, di 57.000 euro per acquistare una serie di apparecchi. Abbiamo la fattura, gli apparecchi, la firma sua, la firma dell'azienda. E quindi è addirittura il contrario della realtà l'accusa assolutamente fondata che mi è stata rivolta. Secondo l'accusa, la concussione, cioè la minaccia alla questura di Milano, ci sono state due telefonate, una da me a un funzionario che non conoscevo e mi era stato indicato dal capo della mia scorta e dal mio assistente e gli ho dato una informazione, c'è da voi una persona che potrebbe essere egiziana. Volete verificare? Parto, allora avevo presieduto durante la giornata l'assemblea generale della Ocse con 57 paesi, sono partito, ho telefonato andando all'aeroporto, sono arrivato a Roma, sono stato raggiunto dalla telefonata del funzionario che mi ha detto, no guardi la persona non è egiziana, è marocchina ed è trattenuta qui soltanto perché risulta minorenne e dobbiamo procedere alla sua identificazione in quanto non ha documenti. Ha capito la verità sulla questione della nipote di Mubarak. La nipote di Mubarak, scusi, è stata una cosa inventata, non so da chi o dai giornali, io non ho mai parlato di nipote di Mubarak. Quindi a lei Rubi non le aveva mai detto che sono la nipote di Mubarak? Aveva detto di essere figlia di una famiglia vicina come grado di parentela al presidente Mubarak. Ah, quindi non c'era la nipote? Al quale presidente io avevo parlato di questa persona per quasi 15 minuti, otto giorni prima, in un pranzo tenuto qui a Roma, Villa Madama, durante un summit italo-egiziano e ci sono state testimonianze, credo 8-10, testimonianze di ministri, interpreti, eccetera, che hanno confermato questa cosa. Io allora mi stavo interessando con Gheddafi della situazione creatasi tra lui e la Svizzera perché suo figlio Hannibal era stato messo in carcere in Svizzera, trattenuto in carcere, e io mi stavo interessando di far liberare i cittadini svizzeri che erano là. Ho capito, presidente, siamo in conclusione. E' chiaro che a me è passato subito per la testa che avendo parlato otto giorni prima con Mubarak, lui mi avrebbe potuto dire, scusa, tu presidente del consiglio del tuo paese, mi hai parlato tu di questa persona e lasci che me la mettono in carcere con un'offesa ai miei confronti così grave? E' chiaro che a me è passato subito per la testa che avendo la testa che avendo con Mubarak. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 15 unknowni